I volontari dell'Accademia Cronos di Salerno hanno scoperto una discarica nei pressi degli argini del fiume Trigento, nel comune di Campagna. Gli operatori hanno rinvenuto tonnellate di rifiuti riconducibili ad attività di carrozzeria, inerti di origine edilizia, cavi elettrici privati del rame, preumatici, barattoli di vernici, oli esausti ed eternit. In questo scenario, purtroppo, anche il controllo presso l'antico mulino ad acqua, oltre ad uno stato di degrado, ha evidenziato la presenza di rifiuti al suo interno. Gli operatori hanno provveduto a redigere una dettagliata relazione al fine di consentire all'amministrazione competente di poter accertare, tramite ulteriori controlli della Polizia Municipale, eventuali responsabilità collegate con l'abbandono di rifiuti, nonché adottare i provvedimenti di propria competenza al fine di bonificare l'area. Grazie